Chi salva una vita salva il mondo intero, dice il Talmud. Quanti mondi si sono estinti a Gaza in queste settimane? Una galassia di volti, storie, affetti. Cercheremo di portare a termine il lavoro con perdite civili minime, dice Netanyahu. Lo dice adesso, dopo più di 12.000 morti di cui quasi la metà bambini. Questo è ciò che stiamo cercando di fare, ripete il Premier. Ridurre al minimo le vittime civili, ma sfortunatamente non ci siamo riusciti. Non è sfortuna. Il vigliacco attacco del 7 ottobre ha spiazzato il suo governo, occupato a scortare i coloni in Cisgiordania. E la rappresaglia su Gaza cerca di coprire il colossale fiasco sulla sicurezza. A farne le spese gli abitanti della Striscia, che muoiono a mucchi. Una cinquantina anche nelle ultime ore. Almeno dieci i morti del rei d'aereo su Khan Yunis. Ogni minuto c'è un massacro, ma quale cessate il fuoco? Qui sotto ci sono gli sfollati di Gaza. Dicono che il sud della Striscia è sicuro, ma quale sicurezza? Cosa vedete qui? Domanda un abitante della città. Isolata dal resto del mondo come tutta la Striscia. Le comunicazioni sono fuori uso. Pessima notizia per le agenzie che non possono coordinare gli aiuti. Ottima per Zahal, che continua le incursioni dentro e fuori l'ospedale al Shifa. In un edificio vicino è stato trovato il cadavere di Noah Marciano, la soldatessa rapita da Hamas, che l'aveva mostrata in un video. I commando israeliani setacciano la zona, enorme, 5 ettari, in cerca di tracce degli ostaggi, mentre eliminano qualche miliziano. Ma Hamas conta 40.000 effettivi, più i 10.000 della jihad islamica, e i capi si sono rifugiati da tempo in Qatar e altri paesi.